Un tributo a chi dopo 150 anni non ha ancora smesso di unire gli italiani. Un tributo a chi ha un unico credo, il rispetto per ogni credo. Un tributo a chi dà sempre voce, a chi non smette mai di dare una mano. Un tributo a chi sostiene il servizio pubblico con il canone. Il canone TV è un tributo come tutti gli altri. Pagarlo non è solo un gesto di civiltà, è un obbligo.